No, ma andate bene! Viva! Con il numero 32, Cristiano! Con il numero 5, Filipe! Con il numero 11, Frantani! Con il numero 13, Alessandro! Con il numero 14, Susserlini! Con il numero 22, Antonio! Con il numero 23, il capitano Massimo! Con il numero 27, Primi! Con il numero 52, Mattias! Con il numero 76, Luca! E con il numero 99, Antonio! Passiamo! Con il numero 25, Daniele! Con il numero 21, Marco! Con il numero 8, Cereno! Con il numero 16, Torna San Siro, Mattie! Con il numero 21, Maxi! Con il numero 25, Daniele! Con il numero 25, Daniele! Con il numero 60, Rocco! De Sudo! E con il numero 76, Mario! Allenatore Massimiliano! Allenatore Massimiliano! Arbitrante al posto, Marco Guida, assistente! Magaleghe Palomarca! Benvenuti nella casa dell'Unione! Allenatore Massimiliano! Allenatore Massimiliano! Allenatore Massimiliano! Grazie a tutti. Grazie a tutti.